Il progetto Voce è altamente significativo, volontario al centro, ma perché l'azione volontaria e l'azione finalizzata all'interesse comune deve tornare al centro dell'attenzione e al centro di un nuovo modello di sviluppo. E quindi è estremamente importante porre al centro della città il luogo che è il luogo di connessione delle relazioni anche tra le generazioni e può essere il luogo di produzione di una cultura nuova, della solidarietà, dell'attenzione agli altri, del pensare all'altro in maniera necessaria al mio bene, oltre che al bene della città. In questo c'è una grande aspettativa sul progetto Voce. Il forum del terzo settore, che ha una lunga storia non soltanto in Lombardia, ma in particolare a Milano, è molto impegnato nel supporto e nella promozione del progetto Voce, proprio perché crede alla necessità di sviluppare coesione all'interno delle organizzazioni di terzo settore, quindi tra volontariato, associazionismo, impresa sociale, cooperazione, perché tutti questi soggetti possano produrre coesione sociale nella città, ma occorre che abbiano un luogo di riferimento dove realizzare il proprio confronto. Credo che il progetto Voce ci vedrà protagonisti insieme a tutti gli altri soggetti, proprio perché questa sintesi deve essere resa visibile alla cittadinanza.